Anche da casa puoi scegliere il tuo futuro. Mi chiamo Rachele e sono studentessa al terzo anno del corso di laurea in scienze del turismo presso l'Università degli Studi dell'Insubria. Per me Insubria è confronto diretto con i docenti ed è un'università che offre molte opportunità riguardo la mobilità internazionale. In particolare per il mio corso di studi l'università propone Erasmus in varie città europee, un programma di scambio con la Niagara University nello stato di New York e dal 2017 è attivo una partnership con l'Università degli Studi Milano Bicocca per un workshop presso il Centro Alta Formazione e Ricerca delle Maldive.